Una cittadina nissena, Rosetta Rizzo, ha scritto una lettera in cui si è posta degli interrogativi su questioni legate al funzionamento dell'ospedale Sant'Elia, in cui chiede, in sintesi, un miglioramento e un rafforzamento di alcuni servizi. Tra le questioni affrontate è la possibilità di migliorare l'adegenza in ospedale, visto anche l'accorpamento di alcuni reparti come chirurgia e urologia o chirurgia vascolare con neurochirurgia, alcuni dei quali devono anche coprire le necessità delle province di Agrigento ed Enna, in quanto in quelle sedi non sono presenti. Tra le considerazioni della donna anche quelle relative alla possibilità di aumentare il personale in servizio in alcune unità, tra cui il pronto soccorso, anche per quanto riguarda i tempi e le modalità con cui vengono fornite le informazioni ai parenti. Altra questione riguarda i tempi considerati lunghi per l'esecuzione degli esami diagnostici, vicenda di cui ci siamo occupati in passato sentendo anche i responsabili del settore della sanità nissena. Si dice che all'ospedale abbiamo tutti una mattonella e per quella mattonella che mi appartiene vorrei capire di più, conclude nella sua lettera la cittadina. Abbiamo anche contattato il direttore sanitario dell'ospedale Sant'Elia Benedetto Trobia per chiedergli alcuni chiarimenti, ma al momento non abbiamo ricevuto risposta. Restiamo a disposizione qualora la direzione sanitaria o l'ASP decidano di intervenire.